Ragazzi sono il piccolo ruby e oggi vorrei parlare di un qualcosa che sta facendo banco ultimamente sulle unioni civili e quant'altro, cosa che a me riguarda personalmente. Ok, allora ho visto pochi secondi fa prima che mangiasse, infatti ho lo stomaco che ribolle su un video di fanpage.it, lo linko qui sotto, dove praticamente questo giornalista andava a intervistare la gente del Family Day, cosa ne pensasse di qua e di là sui temi dell'omosessualità e quant'altro. Io non ce l'ho tanto con le persone che dicano delle cose, cioè ci sono delle cose che hanno detto che sono veramente aberranti, delle cose che penso non avrebbe detto neanche Gesù se fosse sceso sulla terra. Però siamo in un paese libero, siamo in un paese fascista perché io penso che il fascismo sia ancora insito nello stato italiano, cioè il fascismo è morto nel 1946 come partito ma non come ideologia perché noi siamo razzisti, siamo omofobi, siamo maschilisti e quant'altro. Quando vediamo uno straniero gli diciamo tornati al tuo paese, quando vediamo come è capitato a me di una persona che dica che una cosa non gli è piaciuta, brutto froccio di merda, se vediamo una donna che ha subito uno stupro gli diciamo e vabbè te la sei cercata perché ti sei messa la minigonna, se non ti mettevi la minigonna alle undici e mezza del pomeriggio di sera vedevi che il tipo non ti stuprava. Visto che io sono per la libertà, nel senso che se qualcuno mi dice che quel determinato libro gli è piaciuto io non sono nessuno per andargli contro per dire che io ho ragione e tu no, non sono assolutamente così, io sono per la libertà. Quindi una persona può dire che l'omosessualità è contro natura, che l'omosessualità è una cosa di qua di là eccetera. Non accetto che mi si venga a dire che la persona omosessuale è così perché ha avuto dei traumi infantili, degli abusi, c'è gente che ha parlato di abusi sui minori. Perché le famiglie etero non hanno abusi, no assolutamente, non ci sono madri che picchiano i figli, no non ci sono assolutamente. Io proprio ieri sentivo di una mia amica dove mi parlava di questa famiglia che era praticamente allo sbando e se non portavano via la figlia più piccola i fratelli la potevano far prostituire. Ovviamente sono casi isolati, non sto facendo di ogni eva un fascio assolutamente, sto solamente dicendo che questa è discriminazione. Quindi che non mi si venga a dire determinate cose perché io comunque sono cresciuto in una famiglia normale, ho avuto un'infanzia normale, ho avuto un'adolescenza abbastanza travagliata, quindi che non mi si venga a dire queste cose e che non mi si venga a dire che l'omosessuale è un pedofilo perché non è assolutamente vero. I pedofili sono i preti, alcuni preti pedofili perché io non voglio fare di ogni erba un fascio, perché io sono consapevole del fatto che in un gruppo c'è la parte buona e la parte marcia, però che non mi si venga a dire questo. Perché la persona omosessuale ama, ha un'attrazione fisica e prova dei sentimenti di amore nei confronti di una persona del suo stesso sesso, il pedofilo tocca i bambini. Quindi sono due cose completamente diverse. La differenza che intercore tra me e un prete pedofilo sta proprio nel fatto che c'è la consensualità. Cioè il bambino non è consensiente, però anche gli hanno detto che la colpa è del bambino perché cerca un po' di provocare il parroco, cerca affetto. Beh, un conte che magari cerca affetto di un abbraccio, un conte che magari abbassa gli i pantaloni e fargli giocare col proprio membro. Allora, che non si venga a dire queste cose, però vabbè siamo in un paese fascista, il fascismo cosa volete fare? Cioè non è che tu puoi entrare e spaccare il cranio anche se ci vorrebbe, spaccare il cranio a queste persone e inculcare la tua idea, assolutamente. Però io trovo che, a parte tutto lo schifo che hanno detto, trovo che c'è un'incoerenza. Perché un tizio, o una tizia, no, 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 una tizia, ha detto, ah io ho degli amici omosessuali, per l'amor di Dio, di qua e di là. Però queste cose no, perché il matrimonio è uomo, donna, di qua e di là, eccetera, eccetera. Allora questa a casa mia è incoerenza. Allora io ho imparato in 30 anni della mia vita che tra quello che dico e quello che faccio ci deve essere coerenza. Cioè se io dico che non mangio la carne, per dire, la carne non la mangio, cioè non posso dire, sì vabbè la carne non la mangio, però a Pasqua l'agnello mi ci scappa. No, devo essere coerente fino in fondo. Allora, se io ho una, torniamo al veganesimo per dire, no? Allora se io ho un amico vegano, io ho un amico vegetariano per dire. E questo qua una volta mi ha pubblicato il link, la carne è cancerogena, bla 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 bla, sì vabbè la carne è cancerogena, però con tutto lo smog che ti respira adesso che non sta piovendo, è più probabile che muori prima inalando schifezza dai polmoni che non mangiandoti la carne. Però vabbè, io ho sempre rispettato, lui mi ha detto la sua idea, io ho accettato questa cosa, non condivido il pensiero vegano, però se un giorno fanno un referendum dove dicono Volete aprire dei supermercati dove si vende esclusivamente roba vegana e non roba, cioè dove vendono roba vegana, quindi la carne non si vende in quei supermercati, io posso, devo essere favorevole perché io non posso impedire ad un'altra persona la sua libertà. Cioè io non sono nessuno per dire no, tu non puoi avere quei posti perché magari possono essere diseducativi di qua e di là, perché io sono una persona comunque libera, una persona che rispetta le idee altrui e quindi non vedo il motivo del perché a questa persona gli deve essere negato il suo diritto, ovvero è andare in un supermercato dove non si vende la carne. A me poi cosa cambia, cioè nel senso perché se apri il supermercato a me levano dei soldi dallo stipendio, levano che ne so il diritto di parola, levano la possibilità di votare, no non me ne frega niente perché io sono per il vivere e lascia vivere, quindi se una persona comunque alla fine vuole, persona che abbraccia l'ideologia vegana vuole comunque avere questo tipo di posto è giusto che lo abbia ed è giusto che in un paese come l'Italia delle persone dello stesso sesso contraggano il matrimonio. Sempre nello stesso video hanno intervistato un prete, un pseudo prete, sì vabbè che può, lasciamo perdere, che poi la gente che era lì andava tutte sulle chat gay, quindi vabbè proprio coerenza portami via. Vabbè questo qua ha detto, eh no ma il matrimonio è una legge di natura, allora se già è una legge vuol dire che l'ha imposta qualcuno una legge, il matrimonio è un'istituzione che è stata creata dall'uomo ovviamente. Il matrimonio, come chi ha studiato almeno un po' di diritto, ma mi sembra qua nessuno perché la gente non conosce neanche la Costituzione, non sa che esiste la libertà di parola. Allora queste persone, no questo, stavo dicendo, il matrimonio può essere religioso e può essere anche civile, una persona può decidere di sposarsi in chiesa, col vestito alla rossella oara, i fiori e quanti ce n'è, e può decidere di non sposarsi in chiesa, di non abbracciare la religione cattolica o di non sentirsi pronto in quel momento per fare determinate cose e cosa decide di fare? Decide di sposarsi in comune, che cosa succede quando due persone vanno in comune, due persone vanno in comune, firmano delle carte dove dicono che hanno i medesimi diritti, gli stessi doveri e gli stessi, e i medesimi, cioè hanno stessi diritti e stessi doveri. Il dovere di convivenza, il dovere di sopportarsi, il dovere di stare vicino, il dovere della, vabbè, poi c'è la fedeltà e quant'altro. Quindi alla fine dice, vuoi tu prendere come tua giustima sposa? Sì. Vuoi tu prendere come giustima sposa? Sì. Ovviamente le due parti devono essere consensienti, devono avere capacità di agire, capacità giuridica, eccetera, eccetera. E alla fine queste persone firmano dei fogli, perché sostanzialmente il matrimonio giuridico è un contratto che fanno due persone, che dicono praticamente che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ovviamente poi la Clause dice che, l'articolo poi dice praticamente che devono crescere e allevare i figli, ovviamente. Però lì apriamo tutto un mondo, lasciamo perdere, concentriamoci solo su determinate cose. Allora, io vorrei tanto sapere, ma alla gente cosa gliene frega? Cioè, se io domani vado con il mio compagno in comune a firmare queste carte, alla gente cosa cambia? Cioè, a voi vi levano la capacità di agire? Vi levano soldi dallo stipendio? Vi licenziano? Avete incubi? Vi vengono gli attacchi di panico? Assolutamente no. Io condivido un pensiero che dice, io non sono d'accordo perché essendo cattolico, la mia religione condanna determinate cose, però anche lì poi ci ritorneremo, però siccome siamo in un paese laico e in un paese libero, è giusto che anche queste persone firmino delle carte dove hanno gli stessi diritti e medesimi doveri. Punto. Basta. La tolleranza, anche sul fatto del condannare. Allora, io ho sentito da queste persone che si professano cattoliche, che si professano cristiane, tanto odio. A me non sembra che Gesù, quando è sceso sulla terra, abbia odiato le persone. Voi, se avete mai letto il Vangelo, leggete di Gesù che ha condannato di qua e di là, che ha odiato qualcuno. Anzi, Gesù insegnava l'amore, insegnava la misericordia, insegnava il rispetto. Ha detto, chi è senza peccato scaldi la prima pietra e quant'altro. Forse queste persone prendono, sai, alcuni passi della Bibbia e li estrapolano, no? Allora, io prendo, che ne so, un discorso e dici, la casa è rossa ma a me il rosso non piace. Allora, io estrapolo la parte, dico, la casa è rossa, quindi tu hai detto che la casa è rossa, no? Però tu non hai aggiunto anche che le... però il rosso non ti piace, no? Tu hai detto che la casa comunque è rossa, no? Per dire. Quindi estrapolano le cose e le usano e ne fanno a loro uso e consumo. A me, sinceramente, questa cosa mi fa girare un po' le scatole e penso che queste persone siano al pari delle persone che hanno fatto gli attentati a Parigi, né più né meno. Quelle persone hanno ucciso altre persone, però la matrice è sempre quella, prendere e strumentalizzare la religione per fare del male a qualcuno. Lì le hanno uccise, qui invece stanno discriminando e stanno portando odio nei confronti di altre persone. Cosa che comunque, poi la tizia, poi stava una vecchia lì che stava ballando, non sa che cazzo stava a fa' E la vecchia fa, eh no, perché la famiglia è Maria e Giuseppe. E il tipo gli fa, sì, vabbè, però Giuseppe non era propriamente il padre di Gesù. Quindi tecnicamente Gesù aveva due padri, se proprio vogliamo essere blasfini. E lei fa, lei prima rimane così, poi fa, no no, è lo spirito santo, lo spirito santo è... Allora, cioè veramente, ma almeno quando dovete parlare, dite le cose perché le sapete, informatevi. Cioè non riempitevi la bocca con delle cose solo per farvi vedere fighi, perché non siete fighi, siete solamente dei deficienti. Un altro fatto che, quindi, secondo me queste persone dovrebbero innanzitutto prendere in mano la Bibbia e leggersela. E molto bene anche. E sapere che comunque, vabbè, poi dicono, eh ma Dio non odia, Dio non odia l'omosessuale ma odia l'atto, no? Che proprio di questa gente poi entra nella mente di Dio, sempre per le persone che credono ovviamente. Queste persone entrono nella mente di Dio e dicono, no, però condanna l'atto. Molto bene, però a me risulta che il sesso anale si può fare anche come una donna. Quindi dovrebbe condannarlo. Quindi Dio dovrebbe anche odiare una persona che fa sesso anale con la sua compagna, tecnicamente. Allora perché quello lì è etero e vabbè sì, allora chiudi in occhio, allora perché quello lì è gay, allora io lo devo fulminare. Ma che cazzo stiamo dicendo? Un'altra cosa che è successa recentemente è il tizio di Radio Maria che ha detto esplicitamente che la senatrice Cirinna praticamente deve morire. Era il tizio di Radio Maria augura la morte a Monica Cirinna, no? Un prete, no? Un prete che augura la morte. Infatti dice che, vi leggo l'articolo qualche giorno fa, Cirinna dice, lui ha detto che praticamente questa qui Monica Cirinna mi sembra un po' come la donna del capitolo diciassettesimo dell'Apocalisse, la Babilonia che adesso brinda prosecco alla vittoria. Signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla. Gli ero auguro il più lontano possibile ma arriverà anche quello. Cioè è come se io dico sì vabbè io ti auguro la morte però il più lontano possibile. Cioè ma cosa stiamo dicendo? Cioè un prete, un prete che dovrebbe amare il prossimo, che dovrebbe amare le altre persone, che non dovrebbe fomentare l'odio, perché queste persone fondamentalmente stimolano l'odio. Quindi se tu vai contro un qualcuno o un'ideologia, una persona, tu lo fai con le parole, ma una persona può venire lì e menarti. Cioè queste persone si rendono conto che possono anche spingere atti di violenza nei confronti di altre persone. Cioè ci rendiamo conto del livello di bassezza di questo paese di merda, perché l'Italia fondamentalmente è un paese di merda ragazzi. Cioè io non ho la possibilità, ora come ore di andarmene, ma se mi si la possibilità me ne sarei già andato da tempo. Cioè io sono rimasto veramente sconcertato. Cioè è vero che comunque è l'uomo che sbaglia all'interno di un qualcosa e quindi bisogna condannare l'uomo. Però l'uomo comunque, in quel caso il prete, sta rappresentando una religione, sta rappresentando Gesù. E non mi sembra che sia molto in linea con quello che dica la Bibbia. Cioè Gesù andava, perché io ogni tanto leggo il Vangelo, io ho letto il Vangelo, ho un rapporto abbastanza complicato con la religione, però io ho letto il Vangelo. Allora, e non mi sembra che Gesù predicasse questa cosa, cioè che Gesù abbia detto a qualcuno, ai farisei, eh vabbè non vi preoccupate che poi ci vedremo in cielo, eh, non vi preoccupate che poi ve la faccio pagare. Assolutamente no, perché si entri in polemica con qualcosa, quindi lui poteva dire, no io non sono d'accordo con questa cosa, perché la religione dice così, che poi la religione dice è tutto da vedere, però vabbè. Allora sì, tu stai facendo un confronto, stai entrando in polemica con quella persona, ma stai facendo un dibattito. Dire arriverà il suo funerale è veramente una cosa bruttissima, ma bruttissima da dire da qualsiasi persona, da qualsiasi parte, da qualsiasi, cioè da qualsiasi persona, ma per quale motivo poi? Io non riesco a capire. Cioè ma che cosa, che cosa gli viene a lui, che cosa perde? Gli devono i soldi dallo stipendio? No. Perché nella mente cattolica e fascista di queste persone, dicono che se due persone possono sposarsi, possono anche adottare, e quindi lì poi parte tutto l'uterne affitto e bla bla bla. Questo poi ne riparlerò in un altro video, perché sennò qui sprolocchio per un'ora. Io, traendo le conclusioni, dico che bisogna rispettare e non, cioè bisogna rispettare la libertà dell'altro. Se due persone decidono di andare in comune, firmare delle carte, dove io, dove prendono gli stessi diritti, gli stessi diritti e i medesimi doveri, non vedo dove sia il problema, sinceramente. Non vedo la gente cosa perda nella loro vita. Vi faccio un breve esempio, proprio veloce. Allora, praticamente io ho adesso un cane e lo porto al parco. Siccome poi la gente rompe i coglioni, perché i cani fanno rumori, eccetera, abbiamo chiesto al vice sindaco di farci un'area cani. Siamo andati a raccogliere le firme in giro, non so quante firme dovevano essere raccolte, però abbiamo raccolto un numero consiglierevole di firme. E c'è gente che, nonostante noi abbiamo chiesto un'area cani, continua a rompere i coglioni. Allora, se io non avessi avuto un cane e una signora mi avessi detto guarda, stiamo facendo un'area cani, ti interessa? Io dico sì, ma per quale motivo io dovrei dire di no? Firmo e ciao, anche se comunque io non ho un cane. Io perché devo ledere la libertà di qualcun altro? Cioè, devo impedire che quelle persone abbiano la loro area cani? Per quale motivo? Cioè, vivi e lascia vivere, ragazzini. Però vabbè, il fascismo è intrinsetto in questo paese, cosa ci vogliamo fare? E quindi io penso che questa cosa è totalmente da condannare e che un prete non dovrebbe dire assolutamente queste cose. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!